Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 panoramica per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, stanotte in orario 21.06 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Rioveggio, verso Bologna. Contestualmente saranno chiusi gli svincoli di Roncobilaccio e Pian del Voglio l'entrata verso Bologna, in uscita provenendo da Roma, e sarà chiusa l'uscita di Rioveggio provenendo da Roma. Si informa che da stasera fino a giovedì 26 gennaio sarà in atto uno sciopero dei benzinai, info sui nostri canali social. Infine per i treni, fino al 10 giugno, per lavori sulla linea Siena-Grosseto, il servizio da Buon Convento a Grosseto permane sostituito con bus. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!